andiamo a vedere questa mi regola la velocità ah si si ritorna non la blocchi neanche ah non si blocca la doppia piazza lì in tutto l'angolisco è quasi come se fosse bloccata quando vuole allora il droppino io razzetto per farlo nel mezzo a due anni non c'entro sparato perché è veloce no perché prima lo voglio fare piano e poi secondo come a terra la prossima cosa ci si può essere anche sparato un pochino è troppo dura l'imbarza speriamo di pinzarla ora andiamo via io tengo sempre a tre non ho voglia di fare che si dà è dura non ho voglia di fare ci siamo? Luca ci sei? ci sei io lo sapevo ho preso quello di piccolino l'avevo capito ma cazzo eh grande grande vabbè l'avevo capito l'avevo capito l'avevo capito l'avevo capito l'avevo capito avevo capito ora possiamo te d'ist Sidona d'ist è fattibile è fattibile cazzo l'ho fatto piano ma è fattibile ci si può entrare più veloce il rischio è qui però ho sbagliato più in distanza sono andato sotto e lo faccio piano apposta guardate se non mi faccio vedere l'altro sacco mi faccio vedere l'altra parte se funziona vieni vieni sei vieni 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Comunque è fattibile la pedana Non ho visto perché l'avevo detta facevo, la prendiamo più piano L'ho droppata Ma è fattibile Ma è fattibile? Guarda però secondo me, se la prendi forte, ma è finito Eh ma se piano piano si aumenta la velocità, tanto è bello iniziare Come c'è lo scassato, la c'è quel sasso l'anno e mezzo Non è fatta la pedanina? No Il primo? Eh io il primo ma proprio l'albero L'anno storto, l'anno storto Sul pezzo di dritto ti staccava un po'? Lì stai, dai più forte o quegli altri Perché mi sembrava di riprendere Eh io ti vedevo lì Per l'altra ogni tanto se c'era dei tratti mi mangiava Per l'altra sul pezzo di dritto anche se è scassato? Eh Non ti gira almeno Sta lì Sta lì, con la doppia piastra Non se ne tenia, è il minimo per la doppia piastra Che è la più scadente di... Ma insomma, è già alto livello comunque sia Con questa è fatto sì, ma... È bellina la pedana eh Penso che è un po' più forte su questa Allora, la prossima volta Dì vabbè, sono partito male E poi mi è venuto giù per l'attacco Ho già più su due volte che sono saltato E ho andato due volte di travesse Adesso ho saltato la pedana ma non c'era L'attacco, ormai importa una sera Che c'è c'è? Arriva? Paolo! Oh, che cazzo! Eh, rimane più rigida La mano si allenta, guarda E poi guarda, l'ho portato al fondo Quanto deve essere gonfiarsi? C'è 50? C'è 60 eh? 110 Come 110? C'è dietro? Eh, mi fa di sì eh Nooo La pressione? Eh Io non so, il mio lo metto a... 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 Allora è 160 Allora è 160 Allora è 160 Allora è 160 Eh, è 160 150 Prendi un po' dal peso, hai visto da... Sì, ma media è quello 100 C'è anche sanzi Eh Eh T'ho contato i 10 110 mi sa che... No, neanche la fruccella Il mio rioldo Eh, atti va bene Anche tu ho sbagliato e mi rimasta la sua Andiamo! Ci sei? Via Andiamo, Kenda! 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 Ma... 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 Il primo set l'hai fatto per forza, giusto? Luca Chi è? Oh L'hai fatto per forza Ho fatto tutto in due Ho fatto una a sinistra e poi una in mezzo Eh Perché non ho... Eh, sono arrivato lì e ho rinvenuto E ho detto cazzo che quella a sinistra la c'è quella in mezzo Ma... Sì Questo è un grosso Trocetelo ad ovarsi nell'albere Vabbè, ci scendere giù e dritto qua Il giro, tornare l'albere E' scottili appunti, gli si metri perché arrivo lì, ti affidò, io penso che c'è il salto, mi calda, se arrivo chiesto già doveva, mi calda. Questo prendi piano anche per essere salto, atti la bici. Vai passata, fatti? No, no, no perché è veramente differente da questa e da quell'altra, mi sbaccia quando ce la dai. Prendici un po' di forza, ma tu lì, l'altra c'è la simbola. Siamo? E' meglio il riuscito eh. Poi è perché è nuovo, ora da dentro tutto. Ma anche la motilettora è il nuovo. Tutto, no, il motilettore è il mio, ma dove ci pensiamo? Stai una collezionata, o no, si? Non è comunque stai Non è un suo, ma dove ci pensiamo? Non è un fenomeno che è stato, ma dove ci ripeto, podem prendere subito? Da dentro, quindi? La seconda cosa, la temperatura èpirlo. Ciò è un po' di 90, ma 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 è po' di 90, ma è un po' di 90, ma è troppo. Quindi, la tendo è un po' di 90 è un po' di 90, ma è un po' di 90, ma è un po' di 90, ma è uno si troppo bolletto? Allora, un po' di 80 la stessa? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.